Gli agenti del commissario di polizia di Lauro, guidati dal vicequestore Dio, gli annunzi hanno rintracciato Salvatore Cava, figlio del boss Biagio. Il 37enne, che era reperibile da oltre due anni, è stato rintracciato in un B&B a Pescara. In Abruzzo si era trasferito con la sua famiglia, sfuggendo al decreto emesso dal Tribunale di Avellino nel luglio del 2019. Gli agenti ieri mattina lo hanno rintracciato dopo lunghe indagini. Il 37enne è ritornato a Pago Vallo Lauro, dove dovrà essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Salvatore Cava venne arrestato a maggio del 2010, dopo due anni di latitanza. Inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia, si nascondeva in una villetta a Pago Vallo Lauro, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Cava venne poi scarcerato nel 2019, dopo aver scontato una pena detentiva di nove anni presso il carcere di massima sicurezza di L'Aquila. L'arresto era avvenuto per associazioni a delinquere di stampo camorristico, estorsione e usura.